Una festa dello sport in Piazza San Pietro. Così Papa Francesco ha commentato la presenza di tanti ragazzi e giovani radunati dal Centro Sportivo Italiano per i 70 anni dalla Fondazione. Il Papa ha sottolineato il no all'individualismo che caratterizza la vera sportività per privilegiare lo stare con gli altri e il crescere insieme. E ha ricordato anche l'opera pionieristica Buenos Aires di padre Lorenzo Massa, uno dei fondatori del club sportivo che sarebbe diventato il San Lorenzo. «Tante delle vostre società sportive sono nate e vivono all'ombra del campanile», ha detto il Papa. «È bello quando in parrocchia c'è il gruppo sportivo, ma deve essere impostato bene, in modo coerente con la comunità cristiana. Se no è meglio che non ci sia», ha esclamato Papa Francesco. Lo sport nella comunità può essere un ottimo strumento missionario, dove la Chiesa si fa vicina a ogni persona per aiutarla a diventare migliore e ad incontrare Gesù Cristo. «È bello quando in parrocchia c'è il gruppo sportivo, il gruppo sportivo,